Buongiorno a tutti e buon lunedì, 15 marzo, Santa Luisa, un augurio quindi a tutte le Luise, ma perché no anche a tutti i lunedì. Proverbio del giorno, guarda sempre avanti con ottimismo, ma fai attenzione che dietro di te non ci sia qualcuno molto più ottimista. Ricetta del giorno, panino col prosciutto crudo, fatto in casa. Ho deciso di farvi un regalo oggi, nei commenti troverete il link al mio webinar gratuito, come diventare torero. Ecco, noi toreri professionisti da tanto tempo come sapete non possiamo esibirci di fronte al nostro amato pubblico, ma un pensiero va oggi anche ai tanti toreri amatoriali che in queste settimane avranno difficoltà ad allenarsi entro i 500 metri da casa. Bene, spero che vi sia utile per acquisire nuove competenze, il corso come diventare torero e buon lunedì a tutti!